la porta che si sta andando nel bosco la porta, la porta, la porta la porta, la porta la porta la porta, la mia porta meno male che ho preso le cavo, mi amore oh, la porta guarda questa borsa, guarda la porta, guarda che sono tutti filmati ragazzi tirate fuori la borsa dove l'ha fatto la borsa dove l'ha, chiudi qui chiamatela per la polizia cosa è che l'hanno rubato stava il bortello, la cintura non la dite chiudimi il finestrino, chiudimi il finestrino la borsa, aveva nel coltello dai, la borsa, la borsa chiudi, chiudi, chiudi il finestrino chiudi, 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 chiudi dove è la borsa? qua, 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 qua ragazzi qua mazza stanno operando questo mi stanno difendendo grazie grazie a tutti grazie a tutti